ben ritrovati amici amiche interessi siamo sempre qua insieme a voi anche oggi per fare un punto soluzione un punto soluzione di calciomercato.it oggi questi due giorni che abbiamo fatto non abbiamo potuto farlo perché erano sempre con ospiti quindi abbiamo voluto fare un po di ospiti ringrazio Giuseppe Barone per essersi stato qua con noi ieri un paio di ringraziamenti a nome di tutti quindi vediamo che che notizie ci sono di calciomercato facciamo il punto solo sul calciomercato ragazzi perché si sta parlando solo di calciomercato quindi quindi vediamo cioè la prima novità di oggi la salita a Lewandowski lo scambio fa fuori 1.200 Lewandowski sempre più lontano dal Bayern Monaco possibile come il precomincio Bavarista alcuni campionati si sono esclusi da poco altri li stanno per terminare quindi Lewandowski vuole andare via dal dal Bayern Monaco dopo la rivente il campionato invece Fabio Luiz poi d'Atlantico un ex inter blocca tutto quindi si sta parlando anche che Fabio Luiz vuole andare via da Napoli si sta parlando di questo e poi vedremo i ragazzi poi vedremo poi sempre oggi U è pronta il doppio scambito all'Inter l'anno ciò in diretta quindi per l'Atlanta già partiamo rinnovato un anno fa il futuro dipende dal tecnico Emilia ha deciso sarà addio? Sassuola nella ultima gara ha deciso sarà addio? un'avventura 2.25 lui Sassuola ora però Francesco Magagnardi capitano Nero Verdi ha deciso di addire il calcio quella contro il mio è stata infatti a Sassuola nella gara professionista si giocheranno lo scudetto con il Nero Verdi che hanno sicurato il massimo impegno quindi oltre agli addi di nostri grandi giocatori di come Di Bala che ha preso casa di quindi vediamo lascia la Juventus Marest in Italia almeno per 30 milioni quindi sta parlando Antonio Sila Gusano scrivendo anche perché c'è qualche spunto di te si incredibile complimenti Massimiliano potrebbe perdere uno dei la Dio di Palo di Di Bala corteggiata da Inter Roma a saltifico nel campionato il mio penso a Morata quindi il mio penso a Morata secondo me è tutto fantamercato ragazzi perché non c'è niente quindi secondo me è solo un po' di fantamercato per richiedere un po' di notizie quindi c'è per fare un po' di paura di quello che sta facendo vedere però bisogna vedere bisogna vedere quello che c'è quindi vediamo ragazzi c'è un annuncio ufficiale dal Torino quindi vediamo che chi va via dal Torino che c'è l'annuncio ufficiale capitolo parte merita delle bellezze che si tratta di scadente presto 30 giorni siamo resistenati a dire addio a finestre alla fine ma alla fine potrebbe rimanere a giocare coltore abbiamo fatto le cose giuste abbiamo proseguito proseguito anche se ci rispondono dopo la roma poi il discorso sarà chiuso breccolo lo sa da due mesi che non sarebbe un altro perché vorrebbe fare un'altra esperienza devo dire le grazie perché l'avrete la professionista quindi ragazzi ufficiale che breccolo avevo annunciato anche i live però questo è un video breve breccolo via da Torino una perdita molto importante quindi vediamo poi di basta quindi finita per il finita la roba bene quindi queste sono le notizie quindi queste sono più o meno le notizie che rancidi perché perché sbagliato i rigori quindi vediamo quindi queste sono le notizie ragazzi vi ricordo di iscrivervi su Patreon su Patreon.com adesso vi facciamo anche vedere i vari abbonamenti che potete sostenerci se vi piacciono i nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno perché solo grazie a voi riusciamo a portarvi a portarvi questi grandiosi contenuti non è che ci donate noi vogliamo avere anche un piccolo sostegno sostenere la parte vostra quindi se noi a voi ci tenete voi dovete donare a tutti quindi dovete donare quindi ragazzi adesso vi faccio vedere che abbonamenti ci sono ho messo anche un abbonamento per le state incredibile da frettarvi subito perché è un'afferta incredibile non vi chiedo 100 euro di abbonamenti vi richiedo un piccolo sostegno e abbiamo portato in questo campionato in questo canale non lo fa nessuno ragazzi non lo fa nessuno no dovete solo ringraziarci ringraziare me e davide ok me e davide ragazzi noi davide lavoriamo giorno di notte per tutto o per tutti voi non è che noi ci mettiamo la al pomeriggio diciamo diciamo questo qua noi ci prepariamo quindi ragazzi se non si apre vi ricordo di passare su.com ok di abbonarvi e di abbonarvi perché l'abbonamento è per noi è un sostegno fondamentale intanto chiudiamo qua eccolo qua eccolo qua i miei livelli eccoli qua scegli cosa offrire ai tuoi sostenitori ci sono vari abbonamenti ragazzi varietto avrete vada vada pubblicato due giorni fa pubblica tanti insieme 22 estate 22 3 mesi stati insieme due ore ogni mese contenuti esclusivi 3 quinte ragazzi barretto 3 euro ogni mese salvia team 5 ogni mese rush finale ringraziate le tue incredibili quindi su questo c'è un 5 euro al mese però c'è anche una rush finale o un'offerta speciale quindi pensate voi pensate ci sono sempre sempre forse